Allora, adesso andiamo avanti con un medley di quelli che sono stati un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. Allora, adesso andiamo avanti con un po' i brani rappresentativi dal 2009 a oggi. A cosa servirebbe restarmi fermi qui, analizzare tutti i sintomi di questo silenzio, molto più stupidi di chi va via con la speranza di incontrarsi ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso i limiti cuori, o restare da soli liberi, tornare sui nostri passi, e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi, senza troppi discorsi, tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa è la porta? Se proprio devi andare in mare a porta, mi consegna spesso, sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso da tempo, e il tempo ce n'è, il tempo ce n'è, di tornare indietro. Tornare indietro. Grazie Prego Sovranno C'è fiattini C'è fiattini Tu cuori sulle mani, andiamo Per tutto il brano E dai che te fai? C'è le fiattini nelle mani, su, mi fa rise male Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' quasi finita, tranquilli. Siamo più bravi a tradire, adesso non hai più scuse, lasciami entrare, lasciami entrare. Adesso non hai più scuse, lasciami entrare, lasciami entrare. Grazie a tutti.